Ecco cosa è successo nel post diretta con protagonista Maria Vittoria Lunedì 28 ottobre 2024, Shai la gatta e Lorenzo Spolverato hanno fatto il loro ritorno nella casa del grande fratello e ovviamente tutti i concorrenti della reality su canale 5 hanno scoperto della passione che è scoppiata tra i due ragazzi Ovviamente le reazioni degli inquilini non sono state del tutto positive Nel post diretta Maria Vittoria si è scagliata contro Shai la che l'ha nominata parlando con le altre inquiline, io mi sento ingabbiata, sento che non riesco a uscire fuori, come se fossi dentro ad una scatola Anche in puntata non riesco bene ad esprimermi. Ho fatto la figura della tonta stasera, e poi quell'altra che si intromette e poi prende in giro tutti e fa i teatrini Poteva restare a Madrid, continua dopo la foto, la giovane continua. Ora è tornata Shaila che si fa il suo gioco, il suo Shaila e Lollo Show, il suo teatro Quell'altra str**nza è tornata e mi ha nominato. Io quella non la posso sopportare Poi era in une e non si poteva nominare. Ma come fa Lorenzo a starci? Solo perché è bella, io non capisco come fa Io la vedo così finta. Non la riesco a vedere vera. Certo che sono sincera, non mi piace e ve lo ripeto mille volte Io non la posso sopportare e ti dico la verità, mi dà anche fastidio che è tornata Io non la posso soffrire. Quello si prenderà uno di quei pali in faccia a 200 all'ora Lei lo prende in giro non è innamorata